Il video di Pianchi Giove! Giovannino! Giovannino svegliati! Devi andare a scuola! No mamma, non mi va! Ho tanto sonno! Oh Susu, non farmi perdere tempo! Devi fregarti, devi ancora lavarti i dentini, devi fare colazione, ti devi vestire, hai capito? No! 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 Oh e adesso che c'è? Io quando faccio colazione, guardo i cartoni animali! Giove! Questi sono i POKEMON! Giove! 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 Allora mi piace, mi piace! Beh! Perché? Perché? Perché c'è una cosa importante alla delisione, c'è la finale! Lo so io, lo so io! C'è la finale del grande fratello Vip! Ma che grande fratello Vip! C'è la finale di Champions League! La finale! Frittatola! E birra gelata! E licenza! E licenza! Vai, 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 vai! E' Corner! E' Corner! E' Corner! E' Corner! Arbitro Cornuto! Arbitro Cornuto! Ma che è Cornuto! Ecco! Vai, 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 vai! Ehi! Ah! Chiede la banana! Chiede la banana! E' un pagiaro! Pagiaro! No, è il pagiaro! Pagiaro! Bravo! Vai, 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 vai! E'privi! 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 Vip! E'privi! Bravo! Sono arrivato! Ciao! Come va? Eh, molto bene! Allora che facciamo? Giochiamo? No, guardiamo il mercato animale! Ah, ma tu vieni che devi fare anche il quentura. Sì, sì, a me me li fanno vedere sempre. Ah, che cosa vediamo, dai, io, io? Ma, quello è da piccoli. Oh, ma a che cos'è questo? Eh, è Spider-Man. Oh, ma tu vedi Spider-Man? Sì. Oh, ma è proprio da grande allora. Oh, bravo, è meraviglioso. Sì, bello. Vai, vai. Allora, amico, vogliamo fare un gioco? Eh, sì, dai, giochiamo. Allora, facciamo che io sono Spider-Man. Capendo? E tu sei cattivo. Eh, come va il cattivo? Il cattivo fa così. Bam, bam, bam. Ah, ho capito. Ma dove? Ma, 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 ma. Però ti racconto di quella volta che sono andato in un paese dove tutte le persone erano fatte di burro. Di burro? Certo, metti in gioco a gioco. Ah, sì, e pensa che quando faceva caldo si sognevano e quindi dovevano sempre stare, vivere in grassi, grandi, piccoliferi e quando camminavano sopra il sole avevano una volta d'acqua. Grazie. 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 Grazie.